Mentre Bitcoin si appresta nuovamente al tocco dei 30.000 dollari e sta anche creando tra le altre cose una delle figure di inversione, ancora però non è stata creata, ma è la figura di inversione più pericolosa che abbiamo visto in questi ultimi anni e cioè il Batman pattern ragazzi. Questa figura che tendenzialmente Bitcoin a volte fa e che è creata appunto in questo modo palesemente diciamo le orecchie del super cavaliere oscuro Batman, mentre si appresta però a tentare il superamento della superesistenza a 30.000 dollari che ancora una volta sta reggendo, iniziano a circolare delle voci relative al fatto che in un'eventuale approvazione dell'ETF di Bitcoin potrebbero beneficiarne di più i fork, di Bitcoin e non Bitcoin stesso, quindi sarebbero le altre criptovalute che sono derivate appunto da Bitcoin che potrebbero beneficiarne. C'è un modo di rispondere a questa domanda in maniera tecnica e soprattutto c'è un modo di andare a comprendere se effettivamente questa tendenza il mercato la sta dando, un modo c'è e lo guardiamo in questo video. Ma prima di andare avanti ragazzi iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto e lasciatemi i pollicioni perché mi date una super mano con queste cose, intanto parliamo di Bitcoin fork, che cosa sono i Bitcoin fork eccetera. I fork di Bitcoin sono in sostanza delle modifiche o aggiornamenti alle regole che governano la blockchain di Bitcoin. Quando queste regole vengono modificate, perché una parte magari non è d'accordo con quello che si sta facendo, può essere necessario che in pratica alcuni utenti si uniscono a una nuova rete, una nuova chain e creano un hard fork ragazzi. Quindi se alcuni utenti in pratica scelgono di non seguire la linea generale che poi è quella del progetto principale e alcuni utenti non si mettono d'accordo con la stragrande maggioranza, cosa fanno? Forcano, cioè in pratica se ne vanno per una linea parallela a quella principale e in pratica creano nuove regole per costruire la blockchain. Nascono quindi in pratica due blockchain separate e poi ci sono anche due tipologie di fork presenti nel sistema blockchain ragazzi. Uno è il soft fork che è una modifica sostanzialmente retrocompatibile delle regole della blockchain, è un po' più semplice rispetto ai hard fork che invece creano proprio una chain a parte. L'hard fork invece non è retrocompatibile, ciò significa che una volta che viene implementato tutti gli utenti devono aggiornare il loro software per appunto il mining e la blockchain eccetera per seguire le nuove regole. Quindi chi non lo fa, se non tutti aggiornano appunto il software, si crea appunto questa nuova blockchain che diverge dalla precedente e in pratica si crea un ramo separato. Questo in pratica dà il via a quello che sono uno spin-off, quindi due reti separate. Questo è il processo, detto in maniera molto banale ovviamente, semplice, dell'hard fork. Guardate quanti sono i progetti di bitcoin che sono nati diciamo dallo spin-off di bitcoin, alcuni dalla main chain di bitcoin, altri invece dai fork stessi di bitcoin come per esempio il più famoso che è bitcoin cash. Allora qui in pratica ragazzi noi andiamo a comprendere che in effetti alcune sono state poi dei fork palesemente fatti insomma per creare un po' di hype e fare magari qualche profitto così. Altri invece sono delle chain che avevano delle logiche abbastanza strutturate come per esempio quella di bitcoin cash e anche bitcoin sv ma anche il bitcoin gold stesso che quando nacque praticamente era per ridare la cosiddetta decentralizzazione ai miners della blockchain di bitcoin visto che in pratica per minare bitcoin servono grandi potenze di calcolo e anche grandi spendi di energia elettrica all'interno per sostenere l'algoritmo in pratica molte di questa energia e di questa potenza di calcolo è accentrata in poche mani. quindi in realtà la decentralizzazione del mining e quindi della blockchain di bitcoin è relativa perché sostanzialmente sono tutti in mano a poche persone quindi nasce insomma da questo ideale poi anche bitcoin gold eccetera mentre bitcoin cash nasce per la questione che all'interno di bitcoin le transazioni che potevano passare nel singolo blocco erano troppo poche quindi hanno allargato il buff e insomma hanno creato una chain più capiente sostanzialmente per far passare le transazioni la spieghiamo così perché poi ci vuole la parte informatica per spiegarla in maniera molto più tecnica ma la domanda è ok questi hard fork di bitcoin possono avere nei prossimi nel prossimi mesi se effettivamente l'etf verrà approvato una maggiore capacità di performance rispetto a bitcoin e soprattutto in base a cosa? allora intanto bisogna ragionare ragazzi da un punto di vista logico e partire da quelli che sono dei concetti fondamentali cioè l'etf di bitcoin cosa fa sostanzialmente? se lo approvano in pratica crea una storicità del fatto che un asset delle cripto, il più grande asset delle cripto possa essere messo all'interno di un paniere etf spot venduto a quel punto anche ai fondi pensione quindi sostanzialmente diventa mainstream quindi prima struttura bitcoin non è più considerato, non può essere più considerato scam non può essere più considerato ponzi, non può essere più considerato truffa e tutte quelle fesserie mainstream che circolavano fino anche qualche tempo fa anche addirittura, insomma pochi giorni fa ogni tanto qualcuno lo tira fuori quindi se comunque le regolamentazioni lo portano a diventare una cripto che può essere inserita cioè una currency che può essere inserita all'interno di un etf a quel punto questa diciamo narrativa viene meno poi altro punto fondamentale l'asset di bitcoin non è sufficientemente capiente da un punto di vista di capitalizzazione per sostenere un avvento mainstream quindi se dovesse piacere deve essere venduto a tante persone quindi c'è tanta richiesta dell'etf servirà avere tanti bitcoin in pancia ragazzi per poter soddisfare queste richieste questo significa che naturalmente la domanda quindi c'è una modifica della domanda salirà dei bitcoin e questo è dovuto non alla creazione dell'etf ma al fatto se l'etf avrà successo quindi questo è il vero nocciolo non lo faccio perché è il dito medio quindi non ve lo mostro però questo è il vero nocciolo ragazzi della situazione di cui parleremo nei prossimi mesi e solo dopo l'approvazione e sul quale si basano anche le due narrative che dicono bitcoin etf non sarà un pump ma se non uso bitcoin etf sarà invece un pump perché non analizzano questa seconda ipotesi cioè il successo o meno della bitcoin etf perché una volta che noi lo creiamo ok verrà creato ci sarà probabilmente la corsa ad accaparrarsi i bitcoin per creare la struttura ma se poi bitcoin non ha successo nel mainstream quindi non piace, nessuno lo vuole, nessuno lo piazza non succede niente di tutto ciò allora di questo poi magari ne parliamo però poi l'avvento dell'etf sposta anche l'attenzione a un'altra cosa che è quello che ci interessa in questo video sostanzialmente il mercato cripto verrà preso sotto i riflettori perché si genera speculazione di attesa su altre criptovalute cioè se bitcoin diventa un etf quali altre criptovalute potrebbero diventare anche un etf e quali potrebbero avere il via libera eventualmente della SEC di conseguenza le altre cripto come ethereum e quelle che la SEC invece ha messo un ban bisognerà vedere perché sostanzialmente la SEC li ha ancora definite security e quindi non si sposano bene con la questione degli etf ma i hard fork di bitcoin che hanno la stessa struttura il nocciolo di bitcoin, la brucia di bitcoin è l'obiettivo di bitcoin stesso identico sostanzialmente potrebbero essere identificate anche loro come cripto appetibili per un eventuale etf di altre criptovalute e non solo di bitcoin ecco perché c'è l'idea che i fork potrebbero essere presi di mira ed essendo molto meno capitalizzati molto più piccoli molto più facilmente manipolabili potrebbero subire queste eventuali fasi di impennate allora questa è la narrativa sottostante che cosa ne pensate voi di una cosa del genere ragazzi scrivetemelo nei commenti così ci confrontiamo cosa ne pensate sul concetto che gli hard fork di bitcoin non è un tema di approvazione degli etf potrebbero beneficiarne di più perché ci confrontiamo e soprattutto non scrivetemi i semplici commenti magari anche la vostra idea che cosa e perché questa idea così ci confrontiamo è sempre bello fare questi confronti ma poi c'è una struttura abbiamo delle analisi abbiamo dei modi tecnici di poter vedere questa cosa se il mercato la approva il mercato difficilmente sbaglia ragazzi è proprio molto difficile che sbaglia rispetto a un analista o ai pensieri e le opinioni di chi sta all'interno del mercato perciò sostanzialmente perché il mercato è l'insieme di tutte le opinioni che vengono in pratica mediate e creano una linea comune quindi alla fine è lui che ha sempre ragione ovviamente no? perché indica il prezzo perciò seguendo quello che ci dice il mercato potrebbe essere anche che il mercato delle indicazioni ce le dia già mentre si sta verificando questa cosa e possiamo sfruttarle? assolutamente sì allora andiamo a vedere come si fa a vedere se effettivamente questa narrativa può essere valida o meno e se effettivamente noi possiamo sfruttare una cosa del genere in un eventuale prossimo anno di Burran ancora ce n'è di acqua sotto i ponti da passare ragazzi tutta la questione della ciclicità di bitcoin dell'annuale ancora non abbiamo nessuna informazione almeno fino al superamento dei massimi in 2023 non si scappa è tutto uguale in pratica però fino ad allora dopo allora ci sarà comunque una nuova fase anche volendo e quindi c'è la fase della produzione dell'ETF che bisognerà vedere se avviene o meno e insomma in tutto ciò ragazzi andiamo a vedere se possiamo prepararci allora intanto vi faccio vedere appunto di nuovo bitcoin che sta tentando vedete un dietro fronto dopo aver fatto quella figura il Batman pattern incredibile è pericolosissimo vediamo se lo annulla all'interno di questa giornata oppure no oppure ha fatto un'altra fase di alzista ma vi faccio vedere come si va a creare come si andrà ad analizzare la questione degli hard fork allora intanto gli hard fork che io vorrei prendere in considerazione in questo caso sono solo tre perché non mi interessano gli altri anche perché questi tre sono già piccoli abbastanza piccoli da poter sovare per formare bitcoin gli altri sono iper manovrabili quindi dipendono da tante cose non mi interessa bitcoin cash bitcoin sv che in realtà è un hard fork di bitcoin cash non proprio di bitcoin è bitcoin gold ragazzi allora questi sono gli hard fork che andremo ad analizzare e vi ho già creato un grafico ma vi faccio vedere come si fa questo è il grafico che noi dovremmo analizzare nelle prossime settimane per capire se effettivamente per esempio bitcoin cash può avere una maggiore chance rispetto a bitcoin di sovra per formare nell'ambito della approvazione dell'ETF come si fa a creare un grafico del genere che è un grafico di spread gli amici miei la mia academy tutti quelli che mi conoscono sanno che io ho strettamente a cuore i grafici di spread perché ho creato un modulo proprio dedicato nel mio corso basic ho creato tra le altre cose una bot automatizzato creato su questo tipo di grafici creati e spread dando due titoli mettendoli a confronto sono grafici di forza relativa e ho creato un sistema automatizzato che noi utilizziamo in academy tra l'altro ha fatto i mustimi storici della sua equity curve proprio stamattina e in pratica ho a cuore diciamo questa tematica mi piace molto allora come si fa ve lo spiego bisogna intanto andare a prendere il primo strumento in questo caso ovviamente bch e noi prenderemo bch usd tra le altre cose tradingview ci dà gli indici ultimamente cioè che sono appunto quello spot crypto che vedete qui con il tv di tradingview io utilizzo questi perché non hanno i volumi veri però sostanzialmente hanno molto storico quindi per chi è un amante dei grafici e vuole fare analisi tecnica e analisi grafica è importantissimo andare a vedere questo tipo di grafici dopodiché questo è bitcoin cash è un andamento di bitcoin cash andiamo a mettere uno slash di diviso e andiamo a prendere bitcoin normale btc usd a questo punto anche su btc usd prendiamo vedete questo qui è lo spot crypto index di tradingview con all time history index bellissimo perché parte addirittura dal 2009 e prima invece abbiamo faticato per anni per trovare l'exchange che ci desse lo storico maggiore di bitcoin adesso tradingview ha fatto il miracolo ed ecco creato questo grafico questo è un grafico che ci esprime la forza di bitcoin cash in termini di bitcoin quindi ci dice in pratica se bitcoin cash è più forte di bitcoin si interpreta in maniera molto semplice se il trend è ribassista vuol dire che bitcoin cash è molto più debole di bitcoin se il trend è rialzista bitcoin cash è molto più forte di bitcoin molto semplice banale in questo modo noi possiamo avere una idea a viso statistica grafica grafica della forza relativa della fork di bitcoin in questo caso bitcoin cash rispetto a bitcoin stesso e possiamo fare la stessa cosa anche con tutte le altre cripto quindi bsv bitcoin già le ho preparate i grafici sono uguali e bitcoin gold bitcoin questi sono tutti i grafici di spread non ci interessa il valore ma solo la struttura e la forma del trend cioè vedere se è un trend rialzista o ribassista andiamo ad analizzare bitcoin cash grafico settimanale spostiamoci a un grafico giornaliero un pochettino più veloce e mettiamo le candele anche se vi dico francamente le candele valgono tanto e non quanto in questo caso perché in realtà a noi ci interessa solo appunto come vi dicevo il trend negli ultimi anni ragazzi cioè dal marzo 2021 ad oggi bitcoin cash ha toccato un minimo su bitcoin quindi quindi non sul dollaro ragazzi vi parlo di bitcoin qui questa zona di minimo non è stato teoricamente ancora breccata al ribasso detto questo ragazzi in pratica è dalla da questa zona che bitcoin cash si muove tendenzialmente un po' meglio questo però vedete è giugno 2023 quindi da giugno 2023 da quando è nata un po' la narrativa legata alla questione delle etf si sta muovendo tendenzialmente meglio vi faccio vedere il giorno della notizia di black rock eccola qui ragazzi allora questo solo su bitcoin è il giorno in cui black rock domanda presenta la domanda dell'etf ed è il 19 giugno e da qui vedete 21 giugno il bitcoin cash ha iniziato questa fase di forza contro bitcoin una forza non da poco perché comunque ha fatto 170% in più di bitcoin ragazzi quindi costa ha fatto ha overperformato il già trend rialzista di bitcoin laterale rialzista da giugno in poi di oltre 170 punti quindi è stato molto più forte di bitcoin in pratica vi faccio vedere infatti anche il grafico semplice di bitcoin cash che guardate ha fatto più 200% mentre bitcoin in pratica è rimasto sostanzialmente laterale rialzista quindi ha guadagnato un po' 20 punti 15 punti percentuali rispetto a quella data ma poco rispetto a bitcoin cash questo è il motivo per il quale molti ci sono spinti nel dire che l'hard fork considerando appunto la notizia di di black rock che è stata la domanda presentata qui in pratica vedete proprio la naturale relazione fra queste due strutture ora come si fa a livello operativo possiamo fare lo stesso calcolo anche sulle altre cripto ragazzi a livello operativo ci potrebbe in effetti utilizzare questo grafico andandolo a verificare e fin tanto che il grafico tiene un trend realgista si può anche dire una parte di bitcoin io la vado ad investire su bitcoin cash sulla base di questa news però attenzione ragazzi perché qui il grafico ci dà dei segnali abbastanza importanti primo questo livello che è un livello sotto il quale questa impennata diventa solo fuffa e basta e poi si ritorna al trend naturale e quindi potrebbe essere preso come livello di stop o livello sotto il quale è pericoloso diciamo di tenere questa questa cripto al posto di bitcoin mentre il livello qui di sopra indicherebbe ho fatto una linea vergognosa la rifaccio indicherebbe in pratica che questa zona qui diventa ancora un trend realgista attenzione perché un superamento di quella zona indicherebbe per la prima volta in maniera sostanziale una inversione di trend di bitcoin cash rispetto a bitcoin standard quindi se qua fa una cosa non standard scusate bitcoin normale scusate se fa qui un break quindi inverte questo trend allora questa è il modus operandi che dovete utilizzare se volete utilizzare un po' portafoglio se volete creare un portafoglio misto e sguicciare un po' di bitcoin magari i massimilisti di bitcoin stanno rabbrividendo in questo caso ma è speculazione ve lo ripeto qui si tratta di fare degli investimenti che sono a tempo tra le altre cose non è un hold assolutamente ma è un investimento a tempo e ripeto bisogna sempre controllare le oscillazioni del grafico stessa identica storia si può fare su bsv e su bitcoin gold c'è da dire che però molto rispetto a bitcoin cash la storia di bsv è un po' diversa bitcoin cash è senza dubbio un po' più stabile di bitcoin bsv però anche qui ragazzi guardate la similarità dal 19 della giornata di giugno giornata in cui black rock presenta la domanda anche qui guardate il trend di bsv rispetto a bitcoin questo potrebbe essere ulteriormente tradato soprattutto anche in virtù del fatto che c'è questa resistenza qui ma è pericolosissimo bsv ve lo dico quindi dovete starci molto attenti perché qui siamo ad oscillazioni di volatilità molto più ampie di bitcoin cash stesso quindi non sono consigli finanziari dovete essere preparati per fare questi giochini speculativi ragazzi e ve lo dico però sono molto interessanti perché una bolla su bitcoin che magari può produrre su bitcoin non so un 100% lo dico per dire ragazzi di esito se la idea che ci siamo detti in questo video sono valide su bitcoin cash magari fa il 300% ragazzi il 400% quindi può essere che non cambiando non prendendo cripto strane e fuori luogo noi andiamo a overperformare bitcoin stesso nella sua performance positiva stessa cosa bitcoin gold seppur rispetto ai suoi fratelli diciamo non di sangue direi proprio assolutamente però è più è diverso diciamo è più ha avuto movimenti differenti guardate qui lo spike anche di bitcoin gold è stato talmente ampio che poi è stato interamente ritracciato questo significativo del fatto che più ci spostiamo in basso nella classifica di quelle che sono le cripto in termini di capitalizzazione più la volatilità le oscillazioni aumentano ma il gioco è lo stesso si può fare questa cosa cosa ne pensate chi di voi si cimentirà ci cimenti no oddio vi sono imbrogliato allora chi di voi si cimenterà in questa cosa la fine l'ho detto giusto vediamo che arriva alla fine del video e farà un portafoglio iper speculativo sfruttando la forza relativa di bitcoin cash bsb e gold cioè i fork hard fork di bitcoin fatemelo sapere nei commenti un super video operativo ragazzi fatene tesoro ci vediamo al prossimo video